Allora amici oggi qui con il nostro Cristiano Gaggion, la pasticceria Gaggion di Alpago e Saturnino, grande ospite, per una pizza dedicata al Giro Italia. Abbiamo questa palla romana con una crema di ricotta, mascarpone, noce moscata e rapa rossa fatta dal nostro chef franco favoreto. Andiamo a tagliarla adesso e prepariamola insieme al nostro Cristiano Gaggion che con la sac a poche e poi abbiamo dello speck croccante, giusto che siamo sempre dedicata al Giro quindi in rosa. Ecco qua. Allora facciamo assaggiare una a Saturnino che ha bisogno di energia, che ha bisogno di energia. Primo ad assaggiare. Primo assaggio. Eccola qua. Una che ha Cristiano e una la prendo io. Vai. Et voilà. Cin cin. Evviva il Giro. Evviva il Giro Italia. Allora Cristiano, grandissimo successo oggi in questa partenza del Giro Italia. Uno spettacolo. Grazie a tutti, alla scuola, all'Engim, ai ragazzi, alla Latte Busche, a Piera 32, a tutti i main sponsor. Proprio una bella festa e ricordiamo che la seduzione c'è da fare. C'è da fare e la pasticceria gazzola. E la pasticceria gazzola. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Ciao.